Questa vita mi ha stressata, sono stacca, io mi butto, io mi butto, ammazza quanto è arto, mamma mia, è alto eh, è alto. Ma che stai a fare? Ma che vuoi? Ma che vuoi? Un attimo, calma te, mi stavo a fare una passeggiata. Io mi butto, io mi butto. Ma che stai a fare? Fermati! Non ti buttare, vi è qui, vi è qui che c'ho paura, vieni qua. C'hai paura di che? C'ho paura di che? Ma che t'ammazzi? Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Fermati, se te butti, è il rischio che pì qualcuno, poi ammazzi davvero. E chi pì io, chi pì io? Intanto non pia piccarlo, perché quello ci serve. Vabbè, al massimo pio Andrea, così faccio contenti tutti sti ragazzini, paracci, tutti sti ragazzi. Ma che stai a fare? Sì, lo prendo! Ma che? Ma no, stai a fare buona, ferma, la vita va bene. E sei vissuta, guarda me. Non c'ho una lira, non c'ho il lavoro, non c'ho niente, non c'ho nessuno. Vale la pena che me possa ammazzare pure io, no? Eh, punto. Fatta a fare i due. Vai. Senti, vabbè. Perché c'è un compagno. No, fermate, fammi presentare, piacere. Io sono Marcuccio, cioè Jack. Tu chi sei? Io sono Giulia, in arte rosa. Rosa? Sì, allora rosa, fidate di me. Mettete in posizione. Posizione? Ma che sta a dire? Ma sei scemo? No, allarga i braccia. Allargo i braccia. Eh, che fidate di me, fia qua, allarga i braccia. Ah, i braccia così. E mo' che devo fa? Che devo fa? Che devo fa? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Manco il tempo di buttarsi di sotto. Che sta a fa? Che sta a fa? Ehi, Giulia. Eh, dimmi, che vuoi? Che vuoi? Stai de qua. Stai de qua. Che dimmi? Allora. Di dove stai? Stai de qua. Dimmi. Senti un po'. Sì. Te fidi de me. Somma, mica tanto. Dai di buttarsi. Occa a vita, è una giornataccia. Marco, sei un genio. Guarda che mi hai fatto fare. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti perché... Ti piace il cambio d'abito? Sì. È lo stesso. Ma stai proprio chiccosa. È lo stesso con le scarpe, non riprendete le gambe. Grazie, Max.